andiamo a questa raga la terra arriva a rio una terra è quello della taglia a terra un altro tutti i morti traccato è entrato dentro è salito sa che qua sopra piano sopra l'hai fatto uno ci sta l'altro sopra terra uno è sopra lì eh devono scendere dall'altro lato dal tuo lato dai non c'è credo in verde c'è un team è dentro il garage lì ce n'ho uno qua adesso un secondo lei arrivo traccato quello del devono darmi mia se riesco eh fai attenzione che c'è stato un oh ma c'è ancora qua sotto ma che palle ci sta uno qua pronto ma che merda l'ho mai vista una cosa così prendo cassa sinistra si si vado appena un attimo il fantasma e poi si si io direi no io direi aspettiamo qua giù e appena il gas cioè dobbiamo uscire ci mettiamo nascosti dall'altro lato della torre eh questi sono un bel cazzo in culo traccato uno ragazzi seguitemi così dritti e mettiamoci dietro al muro tanto quei tre resteranno ai porti si mettono qua sulla L sicuro noi dobbiamo metterci verso qua dopo anche la c'è gente c'è attenzione alle case dietro buono è morto o uno arriva si è buttato col il resto più che dis è boia è boia si sta qui sul tetto ragazzi a terra la faccia gli sparano raga gli sparavano da qua ai nove qua a sinistra c'abbiamo qualcuno entra dentro entra dentro fa freddo fuori vieni qua stanno lì sopra stanno stanno lì sopra stanno uno a terra buono ma dai eh ma lo restano eh ma lo restano siamo anche un po' aperto ma che figli di p***a eh chiamai avvicinato qua sì sì ecco qua ok cioè i figli altri sono sopra il tettino eh se avete una piastra da mollarmi io purtroppo no sto proprio a zero anche sul corte dimmi cos'è che boia oh ma che c***o c'è eccolo non è a terra raga eh niente niente mi danno un colpo mi f***o non è a terra raga vittoria no ce ne manca l'altro dai dai grande infine grande che figata che figata Il signore degli assist Nooo E' rimasta giù Cos'è sta cosa? Eh nuovo easter egg che hanno messo Grazie Sirico che ci porti alla vittoria Prego prego Domani su youtube Dagli